I piccoli furti o gli atti vandalici non sono certo una novità nel cimitero di Bari. Quasi sempre a finire nel mirino dei ladri sono i vasi portafiori realizzati in rame e metallo per il quale il mercato nero è florido. Finora però nessuno aveva fatto una razzia simile a quella che una 22enne barese ha compiuto in compagnia di altre due persone. 459 vasi rubati e nascosti in grandi buste, a loro volta sistemate su un paio di passeggini. Quei bustoni però hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia municipale. Li ha visti transitare nel quartiere Libertà e si è insospettito perché portavano su delle carrozzine dei sacchi sospetti. Quindi si è avvicinata per controllare e subito i due uomini sono andati alla fuga e sono riusciti a bloccare la donna. A quel punto hanno aperto i sacchi e hanno trovato la sorpresa di queste 450 fioriere in rame. Al comando la 22enne un'incensurata del quartiere Libertà con una famiglia d'origine difficile alle spalle ha raccontato di avere un bambino e di non sapere come mantenerlo perché il marito è senza lavoro.